un saluto agli ascoltatori di cube radio da vanposto 31 la rubrica che tutte le settimane quotidianamente dei propri canali social vi informa vi intrattiene sul mondo del fumetto della cultura pop e di tutto quello che ci gira attorno lo spazio di questa settimana dedicato agli eventi parla di una mostra che è attualmente visitabile allo wow spazio fumetto di milano siamo in collegamento con stefania carcupino ciao stefania ciao ciao andrea grazie ciao stefania grazie a te di essere con noi fattoci una piccola premessa wow spazio fumetto è una delle pochissime se non l'unica struttura permanente espositiva sul fumetto è a milano in viale campania è un esempio di un bellissimo recupero di una zona che una volta era una zona un po degradata della città e che invece oggi ospita un museo bellissimo diretto dal nostro comune amico luigi bona che salutiamo e che ringraziamo per averci messo in contatto la cosa bella di questo periodo il museo ospita mostre temporane sempre molto interessanti è quella dedicata a un grandissimo dell'illustrazione del mondo dell'immagine italiano che è appunto fernando nuschi carcupino tuo padre sì sì abbiamo avuto questa opportunità di essere ospitati allo wow e siamo molto contenti infatti la mostra però allora tuo padre ha diciamolo ha percorso mezzo secolo di fatto no della storia dell'immagine italiana producendo lavori anche prima straordinaria anche prima perché ha cominciato la realtà prima della seconda guerra mondiale quindi è una testimonianza lunghissima e so che la vostra associazione è impegnata proprio nel recupero della lunga serie di opere che tuo padre ha prodotto la mostra e ne parleremo ma la mostra in particolare che in questo momento è allo wow è dedicata a una parte di questa lunghissima carriera a quella dedicata al commissario megret sì alle illustrazioni che hanno accompagnato la pubblicazione tra i 65 e i 70 di alcuni inediti in Italia di Megre e di Simenon che sono stati pubblicati per lanciare poi l'edizione su libro e invece questi qui sono apparsi su Grazia su settimanale Grazia sì era una pubblicazione a puntate no se non ricordo male era una pubblicazione a puntate e quindi abbiamo un corso di 32 anzi e sono il completo perché lui era riuscito a farsi ridare gli originali cosa che all'epoca non era così scontata assolutamente non scontata noi ricordiamo che già fino ancora agli anni 80 molte case editrici non restituivano gli originali agli autori sì sì in audito sembra ovvio che dovrebbero uscire sì 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 un orribile un orribile abitudine usanza tanto che tra l'altro accadeva non solo che le case editrici conservassero gli originali ma che poi nelle strane vie di archiviazione e quant'altro non solo non venissero più ridate indietro ma addirittura in alcuni casi sono pure finite al macero ed è una cosa davvero orribile fortunatamente invece siete riusciti a recuperarle tutte ed è un materiale davvero di un valore incredibile direi sì dal punto di vista pittorico poi sono per noi sono straordinarie perché vabbè come dicevamo queste situazioni però si vede che sono fatte da un pittore sì 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 assolutamente no mi è venuto in mente pensando che tu sia un autore Bonelli no? che Bonelli diceva di essere uno scrittore prestato ai fumetti ai fumetti invece mio papà è tosto all'illustrazione e ad altri altri arti visuali ma poi restituito alla pittura infatti infatti devo dire che queste opere sono straordinarie perché tra l'altro restituiscono con un realismo straordinario ma anche con un sapore grafico illustrativo splendido a mio modo di vedere le atmosfere che erano quelle dello sceneggiato televisivo dedicato ai racconti di Simenon in cui appunto era Gino Cervi il protagonista e la capacità che ha avuto tuo padre di restituirne non solo le fattezze riprodotte meravigliosamente ma proprio la postura, le espressioni sì 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 ma infatti sia la psicologia del personaggio e l'atmosfera del racconto per cui che per noi è stato molto importante anche nell'allestimento perché il ragione gre è connaturato a Parigi certo è ambientato tutto a Parigi sì e ai percorsi nei vari luoghi in cui avvengono le vicende questo si vede nei romanzi, si vede nelle tavole che prendono ogni volta un ambiente un ambiente della scena di non partecipare così e noi abbiamo fatto un gioco anche collegando tutti gli indirizzi in cui si svolgevano le varie scene alla cartina di Parigi che abbiamo poi esposto insieme forse si vede nelle immagini che ti ho mandato se l'avete scelta può essere, adesso andremo a vedere è una bellissima cosa perché i romanzi di Simenon da questo punto di vista sì, a vari livelli, sia psicologico che proprio nello spazio e nella storia di Parigi insomma, ma c'era una cosa che volevo dire ma senti su mi sfugge ma diamo un po' di coordinate sulla mostra perché nell'eventualità che qualcuno avesse voglia ovviamente di andare a vederla eccola qui, diciamo così è aperta ancora fino al 20 di ottobre, se non sbaglio sì, il 20 di ottobre ci sarà anche un evento musicale per la chiusura, per l'evento di chiusura, certo sì, l'ingresso è libero sì, gli orari sono tutti pomeriggi dalle 15 alle 19 è sì, sabato e domenica sì, fino alle 8 di sera sì, io invito sempre non è la prima volta che parliamo dell'uomo spazio fumetto perché è un luogo speciale, al mio modo di vedere è un luogo speciale di Milano è un luogo speciale per chi ama il fumetto ma in generale anche solo le cose belle perché permette ogni volta è un punto di riferimento permette davvero di immergersi in questo mondo ha una sala di lettura bellissima è su due piani e appunto queste iniziative gli fanno onore a questa istituzione sì, sì, poi hanno un repertorio anche una biblioteca c'è un sacco di roba che è interessante se si va a chiedere a Luigi Bona se è in buona, Luigi Bona perché ha veramente un sacco di roba anche che noi non sapevamo che ci fosse anche di nostro papà sì, la fondazione Fossati che è un po' quella che raduna tutto questo materiale ha un archivio impressionante che era l'archivio di Franco Fossati inizialmente poi si è poi arricchito ulteriormente negli anni di originali tavole, documentazione, libri una quantità incredibile è un materiale che tra l'altro ha la disposizione di studiosi ricercatori e quant'altro che è quindi diventato negli anni un punto di riferimento fondamentale per il mondo del fumento un'istituzione che spero e approfitto dell'occasione di averti qui in collegamento spero cresca sempre di più perché ci sono grandi progetti e speriamo che l'amministrazione comunale di Milano abbia così attenzione, accolga Sì, infatti Ah no, sai cosa volevo dire prima quando parlavi del megre televisivo che la commessa è stata anche renderlo a colori invece Certo Tutto quello che tu hai detto sull'atmosfera e la psicologia che era comunque resi in bianco e nero alla televisione degli anni 60 qui sono a colori ma però è interessante anche l'uso che fa dei colori carcupino in queste tavole di solito c'è un colore di fondo un colore della tavola dominante Dominante, certo infatti rossi, ocra Greviene fuori non so con pochi tratti ma come se uscisse proprio dal colore della tavola è molto interessante questo aspetto della cromatica Sì, è molto interessante perché tra l'altro è una chiave cromatica che permette di mantenere ha un filo conduttore con il bianco e nero e l'atmosfera della sede televisiva cioè non le tradisce minimamente però ridà anche un tono cromatico è davvero splendido Sì Davvero splendido Noi ricordiamo anche che tuo padre è stato è stato anche nel gruppo lo ricordiamo perché noi ci occupiamo spesso di fumetto quello storico dell'Asso di Picche di Venezia Esatto qui a Venezia con il gruppo con Prat con Ongaro con gli altri quindi insomma un personaggio esatto un personaggio assolutamente da riscoprire da conoscere e anche da ricollegare a quell'esperienza a mio modo di vedere fenomenale che è stato lo sceneggiato televisivo degli anni 60 e 70 prodotto in Italia un vero vanto a livello internazionale che non è mai troppo tardi per riscoprire insomma soprattutto nelle trasposizioni di opere di questo genere ma sai che parlavo con un tipo che aveva era un appassionato di Maigret e che raccontava che quando Simenon ha compiuto non so quanti anni ha fatto una grande festa e sono invitati c'erano invitati i vari interpreti di Maigret c'era Jean Ben e gli hanno chiesto ma qual è il vero Maigret per te qual è stato quello e lui ha detto beh sono tutti bravissimi però quello che proprio ha interpretato veramente è stato pare che Jean Gaben abbia abbandonato la festa la sala dando a Gino Cervi questo questo riconoscimento in effetti è davvero incredibile il modo in cui è riuscito a ritrovare l'atmosfera il personaggio e quant'altro la lentezza sì 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 i tempi proprio no lui era in questo senso era un dottore straordinario perché poi in altre parti e in altre interpretazioni aveva dei toni completamente diversi no pensiamo a Don Camillo no dove è tutto più veloce tutto più sincopato no sì sì no no aveva proprio era una scelta proprio così stilistica assolutamente straordinaria Stefania noi ti ringraziamo tantissimo di questo tuo intervento di questa testimonianza diretta grazie grazie a voi assolutamente invitiamo tutti i nostri ascoltatori se sono da quelle parti a farci un salto perché è aperta fino al 20 è il caso di approfittarne e niente ci teniamo in contatto per altre vostre iniziative della vostra associazione grazie di cuore buon lavoro e buona giornata ciao 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 watch the skies everywhere keep looking keep watching the skies ciao ciao